Esiste un luogo dove il tempo è il mio tempo, dove la mente si riconnette con i sensi. Come uno strumento musicale, il mio corpo si accorda e lo stress, l'ansia, la negatività lasciano il posto ad un nuovo equilibrio. Questo posto non è così lontano, questo posto è Shanti, bellezza e benessere.